Scopri se ti ama davvero. In questo video voglio cercare di spiegare, di far capire alle persone se una persona ti ama davvero oppure no. Questo è, credo, fondamentale. Perché spesso confondiamo la lana con la seta, prendiamo lucciole per lanterne e quindi è molto importante capire, riconoscere quando una persona ti ama davvero o quando magari ti sta soltanto prendendo in giro. Perché poi spesso le persone appunto quando si sentono prese in giro vivono rabbia e frustrazione. E comunque se poi per approfondire riguarda tutti i miei video ovviamente che ho fatto sul canale YouTube Massimo Terramasco, ce ne sono tantissimi, guardateli tutti o quasi insomma se vuoi approfondire il concetto ovviamente iscrivendoti anche al canale e condividendo i video con i tuoi amici se ti piacciono. Allora quali sono i parametri per capire se un uomo o una donna mutatis mutandis ti sta prendendo in giro oppure in qualche modo ti ama sul serio, ti ama davvero. Intanto diciamo questo che se uno ama davvero di fatto dovrebbe amare per sempre. Se uno smette di amarti probabilmente non ti ha mai amato davvero. Anche se le relazioni hanno un inizio e una fine fondamentalmente ma l'amore dovrebbe comunque restare. Cioè può finire una relazione ma se una persona ti ama davvero l'amore continua ad esistere. L'amore è energia che circola. Se una persona smette di amarsi e si trasforma in rabbia, rancore e risentimento significa che non ti ha mai amato sul serio. Quindi dobbiamo innanzitutto distinguere tra relazioni e amore. Ci sono persone che si amano ma non potrebbero mai ad esempio avere una relazione, soprattutto una relazione di convivenza perché hanno stili di vita completamente diversi fondamentalmente. Quindi ci sono persone che non si amano ma magari vivono assieme perché hanno come dire una visione della vita, uno stile di vita molto simile e quindi possono convivere. Non è detto che l'amore debba necessariamente sfociare in una relazione. Anzi talvolta quando l'amore sfoci in una relazione poi perde un po' di, diciamo, di appeal. Per cui l'amore è desiderare la felicità dell'altra persona. Ovviamente ci va poi quando si decide di passare del tempo con una persona. È importante capire se esiste l'amore ma se esiste anche la volontà di restare con questa persona. Quindi ci sono delle modalità per capirlo. Ovviamente ci sono tre componenti fondamentali che devono essere presenti in una relazione e non è detto che devono essere presenti nell'amore. Questi componenti fondamentali sono intanto la passionalità, la passione in una relazione serve, in una relazione di coppia intendo, almeno per una certa fascia d'età. Poi, diciamo, superata quella fascia d'età lì potrebbe anche diminuire. La passione poi tende naturalmente a esaurirsi. Le neuroscienze sembrano andare nella direzione in cui la passione si esaurisce nell'arco di 18 mesi circa, insomma. Poi oltre alla passione è importante che ci sia l'intimità. Con l'intimità si considera il fatto che due persone interagiscono in modo profondo senza, come dire, comunicare in modo superficiale. Quindi riescono a comunicare le loro emozioni. L'intimità è fondamentalmente l'empatia che si crea tra le persone. Se due persone stanno assieme ma comunicano solo parlando di luce, gas e telefono, oppure, che ne so, dei figli del mutuo, cazzi e mazzi vari, beh, non è detto che questo sia una comunicazione empatica. È una comunicazione di servizio. Eppure molte persone sono connesse da questo tipo di comunicazione. E poi, ovviamente, un altro legame, un'altra componente che è necessario essere presente all'interno di una relazione è la componente dell'impegno. Quindi, alla fine, come dire, l'amore relazionale giusto deve avere tutte e tre queste componenti, passione, amore e passione, intimità ed impegno. Se ne manca una, beh, ad esempio, se c'è soltanto la passione e l'intimità, si vive un amore romantico, un amore in cui tipicamente, diciamo, adolescenziale, ma senza poi prendersi appunto degli impegni. Se c'è impegno e intimità, si vive il sodalizio d'amore, cioè le persone. E questo capita soprattutto nelle coppie di lungo corso. Ma come fare a capire quando tu conosci una persona nuova, se questa persona ti ama davvero o no? Beh, ci devono essere delle assonanze. Delle assonanze tra, ad esempio, quello che la persona dice a livello verbale e quello che comunica a livello non verbale. E poi anche attraverso i comportamenti. Quindi questi tre parametri devono essere allineati. Se questi tre parametri non sono allineati, non è possibile che quella relazione sia una relazione basata sull'amore, ma è basata su altro, ad esempio. Allora, i parametri allineati sono, ad esempio, quando una persona ti dice ti amo, se io ti dico ti amo, te lo posso dire in modo asettico. Ma se ti tende a dire ti amo, questo è già un'assonanza tra quello che sto dicendo a livello verbale e quello che sto dicendo a livello non verbale. Oppure ti amo tanto davvero. Ecco, questa è un'altra assonanza. Se invece dico ti amo, in questo caso, in questo secondo caso, io ho fatto una leggera movimento all'indietro mentre stavo dicendo ti amo e in questo caso il ti amo significa non è vero che ti amo. Quindi è molto importante capire questo perché il ti amo detto in questo modo ha un significato, il ti amo detto in questo modo ha un significato completamente diverso. Cioè la comunicazione verbale è esattamente la stessa ma la comunicazione non verbale è completamente opposta. Questo quindi quando capiamo che una persona in realtà non ci ama o ci tratta male o non si comporta in modo giusto e ci sono molte persone che dicono non riesco a smettere di pensare il mio ex, non riesco a smettere di pensare questo, non riesco a smettere di pensare quello. Purtroppo questo è come dire la nostra sfera emotiva ci sta dicendo guarda che tu non ti stai dando le giuste emozioni, non ti stai dando i giusti diciamo stimoli emotivi perché se tu fossi in grado di darti i giusti stimoli emotivi non staresti a pensare a un ex che ti tratta male. Quindi la cosa fondamentale da fare è questa quando vivi una situazione che non ti piace, vivi una situazione con una persona che non ti dà quello che vuoi, che di fatto hai capito anche dal linguaggio verbale o non verbale che non ti ama, devi semplicemente allontanarti, devi fare un atto di coraggio, devi darti le emozioni del bene. L'emozione del bene è l'emozione del tuo orgoglio che ti allontani, questo è fondamentale. Un'altra cosa molto importante è quello che riguarda ad esempio il comportamento. Se una persona ti ama, beh probabilmente farà quello che va a dire, cioè nel senso che se una persona ti ama veramente e si dice che si prenderà un impegno, si prenderà quell'impegno e ovviamente tenderà anche a prendersi degli impegni, questa è un'altra cosa fondamentale perché la terza componente di impegno nell'amore è anche indispensabile, è anche fondamentale. Se non c'era impegno, se non c'è impegno non c'è amore, tra virgolette amore relazionale. Gli impegni qua possono essere di diverso livello, bisogna sapere esattamente quello che si vuole, poi anche questo è un altro parametro fondamentale da prendere in considerazione, se tu non sai quello che vuoi non saprai mai se raggiungerai il risultato. Nessun vento è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ma invece tutti i venti possono essere favorevoli per il marinaio che sa dove andare. Questo è un altro parametro molto interessante. Quindi ribadisco che per capire se una persona ti ama ci deve essere rasonanza tra la sua comunicazione verbale, quella non verbale e quella comportamentale. Se questo esiste significa che quella persona in un modo o nell'altro è connessa con te, se non esiste vuol dire che non c'è connessione, quindi vuol dire che di fatto non c'è amore. Quindi osserva, impara ad osservare anche piccoli dettagli che alle persone possono sfuggire. Ad esempio una persona che ti dice ti amo tanto e fa questo tipo di sorriso, che è un sorriso asimmetrico. Le asimmetrie significa che non ti sta dicendo la verità fondamentalmente. O quando una persona ti vede tende a sorridere in questo modo, certo sto sorridendo. Oppure il falso sorriso. Questo è il falso sorriso. Non faccio intervenire i muscoli degli occhi. Altro falso sorriso. Cioè questo deriva dalla smorfiche, che è questo, quindi viene sviluppato come un sorriso. Quindi devi notare piccoli particolari. Se noti questi piccoli particolari, se noti questi piccoli particolari riesci a ottenere dei grandi risultati da questo punto di vista. E riuscirai, diciamo, a... e riuscirai a fare... come dire, riuscirai a conquistare veramente una persona con la quale poter star bene. Viverti il tipo di relazione che più tu preferisci. Perché poi la cosa che veramente conta è avere lo stile di vita che tu vivi. Questo è fondamentale. Perché se tu poi resti in una relazione in cui la sofferenza è maggiore del piacere, beh, vuol dire che la tua parte emotiva inizierà a nutrirsi di sofferenza e non di piacere. Ecco, questo è un altro punto fondamentale. Quindi c'è una fascia di tolleranza del 30%. Cioè noi possiamo stare all'interno del 30%. Su 100% di emozioni possiamo tollerarne il 100%, diciamo, sul 100% di emozioni, il 30% massimo di, tra virgolette, sofferenza o comunque di distonia, ma il 70% almeno devono essere di sintonia. Ecco, osservando questi particolari dettagli, osservando i comportamenti, riuscirai a capire se davvero una persona ti ama. Riuscirai a scoprire se davvero una persona ti ama oppure ti sta semplicemente prendendo in giro per ottenere dei risultati di qualunque natura essi possano essere. Quindi vi invito tutti a seguirmi sul canale YouTube. Ovviamente iscrivetevi al canale YouTube, Massimo Terramasco, ma anche crescita personale con Massimo Terramasco, felicità, benessere e mola autostima. Troverete più di 20.000 video, quindi seguiteli un po' tutti e iscrivendovi può essere tutto interessante. Bene, un saluto a tutti.